C'è il suo dogno, il suo lontano e il suo lontano è molto bello. Il mio caso di la luce giusta la rilletta, oggi è sempre donu domani, il saffio, l'opo di schiere. Aiaiaiai, sprucce spasso le tine terre. Ti ho stato messo dire, di stare all'asperare, per me si t'ha promesso, che mai si verrà Ti ha preso la pinza in questa fronte al materino, guidato da chi Mi fa navigare, tu non puoi rimessi da navigare Tu non puoi rimessi da navigare Grazie 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 C'è la crisi, c'è la crisi, c'è la crisi, c'è la crisi! L'hanno fatto per tutti quanti perché la mafia non è un problema di quelle regioni lì, ma un problema di tutta l'Italia, un problema di tutta l'Europa. Aiutano il nostro paese che fanno una vita infame. Aiutano il nostro paese che fanno una vita infame. Non c'è di nuovo da noi. La terza è bella, c'è via un'altra, c'è via un'altra. Se c'è la terza è bella, c'è via un'altra, c'è via un'altra, c'è via un'altra, c'è via un'altra. Sono calonato, nessuno, mi ha conto, mi ha messo il contatto! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!